Buonasera telespettatori di Telegranda, benvenuti all'ottava puntata di Sporting punti d'arte, la seconda dedicata alla fotografia. Per me è un grande piacere presentarvi Mario Tible, che oltre a essere un grande artista, un grande fotografo, è stato un campione in tutto quello che ha fatto, dalla corsa allo sci, alla bicicletta, insomma poi racconterà brevemente anche il personaggio che c'è dietro all'artista. Quindi se vuoi salutare gli spettatori di Telegranda? Sì, saluto molto volentieri, sono anche emozionato perché non sono mai stato in uno studio televisivo, comunque supereremo anche questo. Perfetto, pensate, un uomo che va in solitaria, ha viaggiato quasi in solitaria tutta l'Africa, ha dormito in tenda in mezzo a popolazioni alle volte non così amiche ed è timoroso degli studi di Telegranda. Mi sarei fatto così? Sì, è fatto così, perfetto. Dunque, nel presentare Mario volevo anticipare che è un artista a tutto campo, ha iniziato a fare il grafico inventando delle etichette di vini delle Langhe, famosissime, non stiamo a citarne nessuno, però uno lo voglio citare, che è Beppe, aiutami che non mi ricordo. Ah, Beppe Rinaldi. Rinaldi, che fa un barolo eccezionale. Citrico. Citrico, perfetto. Al di là di questo, ha sempre fatto fotografie girando il mondo, molte volte, come ho detto, in solitaria, e da qui ha un reportage di tutte le situazioni che ha vissuto. In particolare amando l'Africa, anche se l'opera che presentiamo qui è esattamente dell'India, di quando tu sei stato in India. Varie tribù dell'India. Varie tribù dell'India dove sei stato? De Loressa. L'anno scorso? Sì, due anni fa. Due anni fa. Quasi due anni fa e la regione si chiama Orissa. Orissa. Volevo ricordare ai telespettatori che Mario Tible è un fotografo riconosciuto a livello internazionale, ha vinto dei premi in tempi non sospetti negli anni 70 con il Presidente della Repubblica, addirittura Leone. Le sue opere sono state acquisite dal Quirinale. C'è stata una grande mostra di cui ho portato anche il libro, che è particolarmente bello, il titolo Occhi neri. Questa mostra è stata fatta nel 2003-2004 alla Fondazione Ferrero di Alba e come sempre l'editore, l'editore illuminato, visto che l'ho citato per il libro di Pierlingua, che è l'artistica, o meglio il signor Lorenzato, oggi non mi vengono i nomi, chiedo scusa ai telespettatori. Questo è un libro fantastico, dove, non so se a favore di camera si vede, ci sono praticamente un reportage, in questo caso Africa, di tutte le cose che lui ha visto, che ha vissuto. Poi da queste fotografie lui ha estrapolato alcuni soggetti a suo piacimento e li ha riprodotti su delle tavole, con un effetto collage per alcuni, intervenendo con della pittura, ma la cosa più intrigante che ha fatto, secondo il mio punto di vista, è di scrivere delle brevi frasi, che sono un racconto del momento in cui lui era ospite di una famiglia, che c'era una situazione particolare. Queste frasi normalmente sono sette, otto righe, però sono molto, molto interessanti la lettura, lui tra l'altro le fa sia in italiano, alcuni in inglese, alcuni in francese, proprio perché, come le ripeto, lui è un artista che è conosciuto a livello internazionale. Ho anche portato questa mostra, che è stata fatta nel 2015, è stata fatta a Monte Carlo, alla prestigiosa Galleria Rivolzi e all'interno del prestigioso e famosissimo Ristorante Cipriani. La cosa interessante di questa mostra, oltre alla mostra in sé, è stata anche che è stata presentata da Matteo Bellenghi, che è stato il curatore della mostra di Andy Warhol al Vittoriale a Roma, quindi anche delle firme prestigiose che hanno scritto per lui. Adesso è il momento che parli tu, però, Mario. Volevo... Fami delle domande, perché altrimenti... Sì, te rifacciamo le domande, non ti preoccupare. Allora, la prima domanda che ti faccio di questo quadro, io li chiamo quadro, perché per me sono quadri, e ripeto, per me il fotografo è pari a un artista. Infatti in questo quadro abbiamo degli elementi di pittura, ma poi questa cornice, che è una cosa spettacolare, io amo terribilmente queste cornice. Come nascono queste cornici? Nascono che le cerco un po'. Questa l'ho presa in una baita, cioè l'ho presa, ho chiesto... L'hai rubata, dimentica. Era appoggiata su una strada, su un sentiero vicino a una baita, in Friuli, questo è in Friuli. Ho chiesto al proprietario cosa ne faceva, lui mi ha detto, ma io la brucio. Allora ha detto, dammela, no? E così l'ho recuperata per questo, come ne ho recuperate molte altre. Pensa che un giorno che ho fatto una gita in Vallegrana, sono arrivato scendendo in una frazione disabitata che si chiama, mi sembra, Cauri. E la chiesa era completamente distrutta. E vicino a un rudere c'era una finestra di legno, anche lì me la sono presa, no? Con il pannello, ho tolto il pannello e al posto del pannello ho inserito poi una fotografia con una composizione di una maschera. Quindi abbiamo una doppia situazione artistica nelle opere di Mario Tible. Adesso noi ne abbiamo portato ovviamente una sola, non è che possiamo portare 3.000 opere, però questa che a mio parere è molto rappresentativa, anche se non ha la descrizione, come avevo accennato, di molte sue opere che descrivono il momento, la situazione, però mi piace particolarmente per questa cornice come elaborata. Quindi anche la cornice diventa parte non di decorazione, qual è il ruolo della cornice, ma diventa un'opera anche lei. E questa è una particolarità che devo dire che in pittura ci sono alcuni artisti che hanno fatto questo, ma non è che sia una cosa così normale. Mi interessa farti delle domande specifiche sul tuo amore per l'Africa, ovviamente, anche se so che adesso ripartirai di nuovo per l'India, ma sull'Africa tu hai fatto veramente, hai girato tutto, tutto quello che c'era da fare. Diciamo tutto, no, perché ho fatto 20 o 21, 22 paesi, però quasi sempre sull'Africa, la parte dell'Africa più estensa, diciamo da Dakar a Djibouti, che sono più di 5.000 chilometri, sempre in quella zona lì, e in quella zona lì ho visitato 21 o 22 paesi. Però il mio amore per l'Africa è nato per combinazione, perché quando ero giovane avevo un amico con cui si faceva sport e si andava in montagna. E ci eravamo proposti di andare leggendo il libro di Hemingway, le nevi del Chirimangiaro, e vedendo il film abbiamo detto, no, quando compiamo 40 anni andiamo sul Chirimangiaro. E così fu. Solo che il mio amico non venne, ci andai solo io. Mi trovai da solo e fui aggregato a una committiva, ma negli anni 80, perciò figuriamoci non c'era niente assolutamente, un gruppo di... c'erano dei giapponesi, due americani, c'erano degli svizzeri, c'era un altro italiano. Comunque eravamo in 12 o 13 e con le guide, con i portatori, siamo andati a succhiere e mangiare. E di lì poi è nata questa mia curiosità, la prima volta che vedevo l'Africa, è nata questa mia curiosità per i paesi africani. E allora, continuando a fare sport, avevo letto, non so più dove, qualche giornale, eccetera, che a Dakar stavano organizzando la prima maratona in Senegal. Allora, avendo un amico a Dakar, gli telefonano e gli dicevi iscrivimi alla maratona. E così sono andato a Dakar a partecipare a questa maratona. E di lì è nato il mio amore per l'Africa, ho cominciato a girare tutti i paesi dell'Africa, diciamo, sul Zaria. Sul Zaria. Vedete, è così normale che uno a 40 anni, io devo ancora compierle, quindi mi prometto anch'io di andare a scalare il Chilimangiaro, come è così normale, che ah, c'è una maratona a Dakar, beh, telefona un amico, mi scrivo. Ecco, questo è il personaggio, questo è Mario Tible, una persona che, anche con i suoi anni, perché non ne hai più 40, ma ne hai qualcuno in più, tutti i giorni, estate, inverno, che nevi, che piove, che tutto, lui fa la bicicletta. Ma bicicletta non è che vada sul Viale degli Angeli. Montanbai ne parlerà lui, ma non abbiamo nemmeno il tempo per raccontare tutto quello che fai. Sul sci d'alpinismo viene considerato un fenomeno. Viene considerato un fenomeno per quanto riguarda la marcia in montagna. Ed è, credetemi, un grande fenomeno per quanto riguarda la fotografia. Non so fino a che punto si è esaustiva quest'opera che abbiamo portato, però ritengo che comunque già fa capire che non è le solite fotografie. E poi volevo ricordare una cosa e volevo confrontarmi con te nel merito, senza far polemica con niente di quello che sta succedendo, dell'immigrazione, di queste situazioni. Io volevo ricordare, siccome ho avuto anche io una casa in Africa per tanti anni, che in realtà gli africani sono contenti di stare in Africa. amano i loro posti, amano le loro origini, non gli interessa un certo tipo di consumismo, cioè non è tutto quello che noi pensiamo, loro sono felici. Se vengono qua, io sto parlando ma senza voler fare polemiche politiche, in una percentuale molto alta, è perché hanno dei problemi. Diversamente vorrei avere da te il conforto. Loro stanno benissimo lì dove sono, perché non gli manca nulla sostanzialmente. Correggimi se sbaglio nel mio pensiero. Da quello che ho visto io, il grande problema sono le città, perché tutta la gente che vive nei villaggi, hanno la terra e la coltivano, vivono di sopravvivenza, perché se va male un'annata di racconto, eccetera, tirano la cinghia per un anno, però poi si riprendono magari l'anno successivo. E anche tutta l'assistenza nei villaggi è diversa che nella città, perché ci sono meno esigenze. E poi il villaggio è come una grande famiglia, perciò ognuno è aiutato dagli altri... Dove tu, se ricordo bene, sei stato accolto come uno di loro e hanno diviso con te quel poco che avevano. Ma non una volta sola, parecchie volte, sia in Mali come in Etiopia. È così. Perché in realtà sono delle persone che sono ospitali e ti davano, io mi ricordo che abbiamo una bellissima fotografia che non abbiamo portato, come ripeto, perché non è che potevamo portare tutte, di questa famiglia che tu hai fatto, che c'era il padre, il marito, scusami, la moglie, con i due figli, con una tavola imbandita, che in realtà era imbandita di poco, ma era quel poco che avevano, che te l'havano dato. No, no, come abitudine si divide quel poco. Ecco, ovviamente questo è un discorso, abbiamo fatto un discorso che esula un po' da quello che è la fotografia, da quello che è la tua arte, ma per far capire ai telespettatori di come lui ha vissuto questi momenti, che poi ha riportato sulla carta fotografica, che poi ha riportato usando le tele, il colore e tutto. Effettivamente lui ha fatto una serie di mostre anche qui a Cuneo, perché hai fatto al Palazzo Samone, poi hai fatto Su nelle Langhe, a Bossolasco, se ricordo bene. E secondo me lì, vedendo più opere di Mario Tible, si ha veramente la consapevolezza di essere vicino a una persona che oltre a essere un grande fotografo, ti trasmette questo amore che ha per queste popolazioni, che non necessariamente devono essere solo l'Africa, perché adesso ti stai rivolgendo, il prossimo anno, come ho detto, ritornerai di nuovo in India, quindi sei uno pronto a girare tutto l'emisfero. Sì, finché le forze reggeranno. Molto bene. Sappi che fra pochi anni, se vai sul Kilimanjaro, siccome io faccio 40 anni, mi troverai l'arte scavo. Ok, grazie a Mario Tible, grazie agli spettatori di Telegrande, grazie alla direzione di Telegrande, che è sempre disponibile nei nostri confronti. Va bene, grazie a tutti voi della, diciamo, occasione che mi avete concessa. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.